Abbiamo purtroppo avuto a che fare con uno stadio per cui gli ultimi lavori sono stati fatti nel 2000 quindi è passato talmente tanto tempo che alcune strutture siamo stati costretti a chiuderle Abbiamo promesso che il Fanno non avrebbe perso nessuna gara in casa e abbiamo predisposto in tempi record per chi è un po' seguito le vicende una tribuna da 500 persone provvisoria per gli ospiti e una tribunetta più piccola di 300 posti circa per i locali che andava a sostituire, a fungere le funzioni che faceva la tribuna, la gradinata lato Ancona Nell'ambito di questi lavori ci siamo accorti che non era economicamente conveniente rimettere mano alla tribuna, alla copertura anzi della tribuna centrale in maniera efficace Abbiamo pensato di sostituirla completamente e farla del tutto nuova Da domani noi abbiamo le idee chiare di come questa copertura potrà avvenire e per non far perdere nessuna partita al Fanno Calcio in casa Abbiamo pensato di usare la finestra che va dal 30 di dicembre al 23 gennaio Questo non vuol dire che i lavori inizieranno in quel periodo Questo vuol dire che i lavori iniziano a dicembre perché nel frattempo dovremmo fare i palli di fondazione per le nuove colonne che andremo ad installare e questi palli di fondazioni che sono in calcestruzzo necessitano almeno 20 giorni per tirare Quindi i tempi purtroppo tra gara, tra progettazione e tra tempi tecnici di costruzione del calcestruzzo non possono che essere questi È chiaro che se ci sono soluzioni anche temporanee, provvisorie da concordare con la gestione In particolare con il Fanno Calcio siamo sempre stati disponibili Lo continuiamo ad essere Però il nostro obiettivo è questo Completare tutto il processo di autorizzazioni per poter fare al Fanno Calcio un campionato tranquillo Investire su una nuova copertura che sicuramente sarà più bella e che durerà altri 50 anni rispetto a mettere a mano una tribuna fattiscente anzi ad una copertura la tribuna fattiscente che già ha oltre 50 anni I tifosi all'asciutto quando potranno stare quindi? Io credo che dal 23 gennaio i tifosi saranno tutti all'asciutto con una nuova copertura Prima purtroppo anche stante al calendario dobbiamo aspettare tre settimane di sosta del campionato per cui altre possibilità non ci sono